Questo video riguarda i migliori tre passeggini leggeri. Il vincitore della qualità è l'Ionelo Julie One. Consente di piegare il passeggino in dimensioni compatte, il che, unito al peso ridotto, rende Julie One ideale per i viaggi. Borsa per il trasporto inclusa. Il passeggino è progettato per bambini da 0 a 48 mesi o fino a un peso massimo di 22 kg. Grazie alla regolazione senza scatti dello schienale dalla posizione seduta a quella traiata e alla regolazione del poggiapiedi, il passeggino Julie One sarà comodo in ogni situazione. Le ruote anteriori consentono una facile manovrabilità. Gli ammortizzatori posizionati su tutte le ruote riducono significativamente gli urti durante la guida su superfici irregolari e un comodo freno garantisce il controllo della guida. La barra di sicurezza può essere sganciata rapidamente da qualsiasi lato e ruotata lateralmente. Piena conformità alla norma di sicurezza europea. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'inglesina Sketch. Sketch, il passeggino leggero e compatto che si apre, chiude e guida davvero con una sola mano. Adatto fin dai primi mesi di vita, ha una seduta ampia e confortevole, uno schienale completamente reclinabile, un poggiapiedi regolabile e una capota ampia ed estendibile per la protezione contro i raggi solari. Il passeggino sta in piedi da solo una volta chiuso e si muove agevolmente anche negli spazi più stretti. La capota si regola in ampiezza, grazie al pratico inserto zippato a scomparsa ed è dotata di ulteriore frontalino estraibile con trattamento UPF 50 più per la protezione dai raggi UV. Dotata inoltre di un inserto in rete che favorisce una migliore aerazione interna e consente di poter sempre vedere il bambino durante il passeggio. Dimensioni aperto, 49x104x82 cm. Dimensioni chiuso, 49x57x27 cm peso, 6,9 kg. Il vincitore del premio è l'AUC Passeggino Sport. Il passeggino sport è il compagno ideale sia per tutti i giorni, sia per le vacanze. Leggerissimo e compatto, questo passeggino può accompagnarvi dappertutto. Il vostro piccolo si sentirà sempre confortevole con la soffice seduta imbottita. Sia lo schienale, tramite un gancio, sia il poggiapiedi sono regolabili in posizione nanna. La cappotta offre protezione contro sole, vento e pioggia. Grazie alle ruote anteriori piroettanti, questo passeggino è agile e facile da spingere. Questo lo rende ideale per fare shopping attraverso negozi piccoli e stretti. In caso di necessità, le ruote si possono anche bloccare. I vostri accusiti trovano poi posto nel grande cesto al di sotto della seduta. Naturalmente, anche la sicurezza del piccolo è importante. Grazie alla cintura a 5 punti e alla barra anteriore non dovrete preoccuparvi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.